Prosegue senza sosta l'impegno della Polizia di Stato contro il fenomeno delle truffe agli anziani attraverso la campagna Non Siete Soli, Chiamateci Sempre. L'iniziativa si concretizza in due spot ideati da Gianni Ippoliti, con la collaborazione degli attori Fabiana Latini e Giovanni Platania. Solo ieri mattina il primo dei due spot è stato lanciato attraverso il profilo Facebook della Polizia di Stato, registrando già moltissime condivisioni sul potente social network, un modo immediato di grande diffusione per veicolare le informazioni di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani. Nei trailer vengono infatti mostrate le truffe più ricorrenti, come ad esempio quella tra le mura domestiche in cui i malfattori si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine o per tecnici del gas. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini ad essere cauti quando alla porta si presenta uno sconosciuto. Il messaggio che viene lanciato è semplice e preciso, abbiate maggiore prudenza e chiamate la polizia. Nonostante le tante campagne di informazione, i continui e ripetuti allarmi da parte delle forze dell'ordine, restano purtroppo tanti gli episodi in cui i cittadini over 65 vengono avvicinati e raggirati. I casi registrati infatti a livello nazionale mostrano un aumento del 19 per cento nel primo semestre del 2016, mentre in controtendenza nella regione Sicilia si registra un calo del 6 per cento rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente. In particolare i dati rilevati dalla polizia di stato nella provincia di Ragusa evidenziano un netto aumento pari al 62 per cento rispetto al semestre precedente delle denunce presentate per il reato di truffa ai danni degli over 65. Questo anche grazie alle campagne di sensibilizzazione portate avanti dalla polizia che hanno prodotto due effetti positivi. Il primo che gli anziani adesso sono sempre più informati riguardo i raggiri di cui possono rimanere vittime e sempre più spesso riescono loro stessi a sventare le truffe. Il secondo consiste in una cresciuta consapevolezza del fenomeno da parte dei cittadini che adesso hanno una maggiore capacità di reazione e denunciano questi reati riducendo il sommerso e rendendo possibili le azioni repressive. In tutti questi casi, come dice la polizia, non siete soli, chiamateci sempre. Grazie. 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 Grazie.